Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è il luogo della memoria delle ferrovie italiane. È tutto da dove è iniziato. Utilizzerei proprio questa espressione, caso unico nel panorama dei musei ferroviari europei, un luogo meraviglioso, un'architettura borbonica che sorge esattamente al centro della prima ferrovia italiana, la Napoli Portici. Di fronte c'è il mare dietro il Vesuvio. Direi che tutti gli ingredienti che fanno di Pietrarsa il più bel museo ferroviario europeo sono quelli che ho detto. Ma non è una visione statica, musei con la polvere dove osservare treni che non girano più. No, Pietrarsa oggi è un luogo di architetture ferroviarie perfette, rinnovate, ben tenute, con servizi di alto livello, con treni i cui ottoni ancora lucidi possono ospitare a bordo visite immersive e quindi il legame con treni turistici italiani è proprio qui. Pietrarsa si deve raggiungere in treno. Pietrarsa ha una piccola stazione interna fatta con pietra del Vesuvio. Pensiamo a un nostro treno azzurro che parta da Roma, da Reggio Calabria, porti un'esperienza tutta ferroviaria che culmina a Pietrarsa. Passato, presente e futuro delle ferrovie dello Stato sono legati in maniera univoca da questa creazione devo dire unica, vincente, un binomio indissolubile che è la fondazione delle ferrovie dello Stato con i suoi musei e con i suoi treni storici e FS, treni turistici italiani, con le sue nuove rotte turistiche. Io credo che nel futuro questo nuovo settore abbia un mercato enorme e possa aumentare veramente il PIL di questo Paese. Dieci anni della fondazione FS ci hanno consentito di acquisire un know-how su questo tipo di attività, di restauto e di rimessa in efficienza di treni antichi. Direi che il traguardo finale di questa avventura, quello più divertente, sarà la creazione di carrozze completamente scoperte. Sì, le chiamiamo le Belvedere in linguaggio ferroviario. Sono carrozze senza il tetto, con un appoggio all'altezza del gomito, con dei sedili in legno, che possono viaggiare su delle ferrovie immerse nella natura. Il primo servizio sarà entro il 2024 su una piccola ferrovia lombarda, la Palazzolo Paratico Sarnico. Dalla ferrovia Bergamo-Brescia si dirama questo ramo di 12 chilometri che attraversa i primi vigneti della Franciacorta, si avvicina al fiume Oglio che è l'emissario del grande lago di Seo. Bene, 12 chilometri in un'avventura unica, a 30 chilometri con il caracollare del treno, una vettura scoperta, respirare i profumi della natura. Sarà la prima ferrovia a carrozze scoperte, ma noi siamo sicuri non sarà l'unica. Grazie. Grazie.